Ciao ragazzi di Real Time TV, sono Shaddi, artista perugino classe 95 e da pochissimi giorni è uscito il mio nuovo singolo, Lacrime, che puoi trovare su tutti i digital store e il video su YouTube. Lacrime è un viaggio introspettivo, è un viaggio che racconta di me e lo fa tramite una figura che conosce molto bene quello che sono, conosce molto bene quello che provo e conosce altrettanto bene quello che vivo privatamente. Questa figura ha anche aiutato a raccontarmi, ha aiutato a descrivermi nella maniera più sincera possibile, senza veri e soprattutto senza la paura di essere giudicati. Quest'ultimo singolo è stato prodotto da Daniele e Paolo, due produttori con cui collaboro ormai da diverso tempo ed abbiamo scelto di esprimerci con una chiave prettamente pop, trap se così vogliamo dire, ma con loro stiamo lavorando veramente tanto, stiamo sperimentando nuovi sound e soprattutto stiamo organizzando nuove date live che per fortuna sono ripartiti, anche perché da quando ho iniziato, quindi circa dieci anni fa, sono la cosa che più amo fare perché si riesce a creare un rapporto diretto con il pubblico, si riesce a creare una forte empatia, riesco a percepire le emozioni di chi ti sta ascoltando, è veramente veramente molto bello, quindi sono la cosa che più amo fare. Ci tengo a ringraziare tutto il mio team per il lavoro stupendo che sta facendo, quindi vi invito a andare ad andare ad ascoltare la mia musica e vi invito a seguirmi sui social per restare collegati con tutte le mie uscite, vi mando un bacione, scendi!